Caro saluto agli amici di Ciocomo, buongiorno, ben ritrovati, il nostro tour dell'Ario quest'oggi a Proda in Centrolago e a Proda in un'oasi di verde davvero splendida, non ci siamo mai stati all'interno di un golf e questo è il secondo più vecchio d'Italia. Siamo a menaggio qui con la nostra Marta Miuzzo di Mondo Turistico, quest'oggi un posto fascinante davvero, vi facciamo scoprire e vedere, grazie anche al Presidente Roncoroni, quindi il Golf Club Menaggio e Cadenabbia che è qua con noi con una splendida vista anche sul lago di Como. Buongiorno Presidente e buongiorno a Marta, buongiorno, buongiorno, grazie Presidente di questa splendida vista, devo dire, io quasi un po' in religioso silenzio a calpestare questo prato bellissimo, molto british, splendido davvero. Marta, buongiorno, grazie di averci portato qui a casa del Presidente. Ecco, era tanto tempo che ci tenevo a farvi vedere questo posto perché fra le bellezze del lago di Como non possiamo dimenticare quest'area e soprattutto questa zona, guarda il panorama. Eh, guardiamo il panorama, fantastico. Questo comincia l'Alto Lago. Qui siamo a menaggio, cioè nella zona dell'ospedale, tanto per intenderci di menaggio, giusto? Sì, siamo a frazione Croce, però il club è fra Croce e Grandola e Dunetti, che tu conosci bene. C'è la gruola proprio lì davanti che hai già visto. Un posto meraviglioso, un'oasi di verde, di pace, di relax e di tranquillità. Tra l'altro veramente è un golf che ha, come hai detto tu, è il secondo più vecchio d'Italia. È stato creato nel 1907 ed è stato creato dai gentiluomini inglesi, Mr. Taylor e Henry Milius, che era un importante banchiere, e quindi ha mantenuto questo aspetto molto britannico sia all'esterno che... Ecco, sì, e poi il golf è splendido. È nato con nove buche, ma adesso ne ha 18, perché già negli anni 60 era stato... È veramente anche una parte della storia della nostra zona. E tra l'altro, io non lo sapevo, Presidente, ma questo golf, menaggio e cadena abbia, è aperto anche alla gente, al pubblico, giusto? Uno può venire anche se non è socio. Certamente. Per venire a mangiare, c'è il ristorante qua, bellissima, struttura veramente di grandissima... Perché c'è i turisti stranieri, ha persone che al di là dei soci vengono e giocano sul nostro campo e quindi sopravvive soprattutto per quello. La struttura del ristorante, che prima era riservata ai soli soci e avventori del gioco del golf, è stato aperto ultimamente anche agli avventori esterni, quindi uno può ritrovare persone, turisti che vengono da menaggio e vengono non solo a gustare i cibi prelibati che noi cerchiamo di dare, ma anche la vista spettacolare. Cavolo, Presidente, sai che ha ragione, è una vista pazzesca, bellissima, sul centro lago, che la vedete qua davanti a noi. E poi, soprattutto, Presidente, queste sono anche straordinariamente belle, queste buche qua. Esatto. Questa è una parte del campo. Ci spieghi lei tecnicamente? Perché noi siamo un po' profani, almeno, non so, tu hai giocato a golf? No, no, io... Sei esperta di golf? No, non sono esperta, mi piace vedere, però lascio la parola al Presidente perché tecnicamente non valgo niente. No, il campo di menaggio direi che è un po' famoso, abbastanza famoso in Italia e non solo in Italia, perché è un campo molto difficile, è un campo molto stretto e quindi per un giocatore che ha un handicap medio, quindi un giocatore medio, è un campo molto difficile. Difatti, molto... Quante buche, Presidente? Sono 18 buche. 18, 18, beh, è un bel percorso, è un bel percorso. Sì, è un bel percorso. In passato abbiamo fatto anche tanti campionati, specialmente per i giovani. Noi siamo stati sempre vicini ai giovani e quindi sin dal 1965-64... Venga un attimo, facciamo vedere proprio che bello è sto golf. Sì, è stato un golfer che ha praticamente accolto con molto piacere tutti i giovani e quindi qui si sono disputati tantissimi campionati italiani, Juniore, Scadetti, Pulcini, eccetera, nel corso degli anni fino addirittura agli anni 2000. Quanto cura ci vuole per tenere un prato così veramente bellissimo? E qui è la parte del green che è la parte, diciamo, dove si termina il gioco della buca e si deve entrare come vede in buca. Esatto, e questa è la buca. Quindi, esatto. Diciamolo a vedere anche da vicino, sono curioso sicuramente anche per i nostri ascoltatori che magari è una cosa un po' particolare, è questa quella di oggi. Un tour dell'Ario che ci ha portato in centro lago assieme alla nostra Marta di mondo turistico per scoprire questo bellissimo angolo di verde che è appunto il golf. E che è facilmente raggiungibile, tra l'altro, ma poco conosciuto. Poco conosciuto, la strada è quella che passa davanti all'ospedale, si arriva alla sommità a croce e poi c'è la deviazione. Esatto. Questa è la buca, Presidente, giusto? Esatto, esatto. Questa è la buca da golf, guardate, perfetto, dove entrano poi le palline, esatto. E non è facile. Quindi questa deve essere una superficie molto, molto profonda. Questa è la diciottesima buca, giusto, Presidente? Cioè l'ultima, quindi praticamente, eccola qua, perfetto, ok. Superficia bellissima. Che cura ci vuole? Eh beh, ci vuole direi una cura molto particolare. Poi noi ormai da otto anni siamo totalmente chemical free. E quindi non usiamo prodotti chimici per il mantenimento della superficie erbosa. E quindi sono tutti prodotti naturali che noi usiamo e spesso e volentieri il risultato non è... Vedo che ci sono anche i pannelli solari, quindi voglio dire grande cura anche per questo aspetto... Il risultato ecologico è molto importante. Molto, molto bello. Allora saluto Clara e Mary, buongiorno anche ai nostri amici, amiche che ci stanno guardando. Maura, buongiorno. Andrea, un caro saluto a te. Oliver, buongiorno. Buongiorno sì, a tutti voi. Grazie. Come sempre i saluti. Presidente, volevo far vedere una cosa ai nostri telespettatori di Ciao Como, che ci seguono sempre, ripeto, con grande affetto. e che oggi, insomma, si trovano qua in mezzo a questo angolo di verde bellissimo, con un verde... Ecco, come si spostano i giocatori di golf? Adesso qua abbiamo anche i veicoli. Io, l'ho detto prima impropriamente, l'ho chiamato sbagliando il caddy, ho sbagliato assolutamente. Ecco, li vedete, questi sono i veicoli tutti elettrici, giusto? Rigorosamente elettrici, Presidente. Rigorosamente elettrici. Esatto, con i quali i giocatori... Tra l'altro i pannelli sonari servono anche per caricare i veicoli elettrici che noi usiamo, e ne abbiamo ben 28. Facciamoli vedere un attimo, se possiamo, così almeno li facciamo vedere anche a chi ci sta guardando. Eccoli qua, perfetto, li vedete. E con questi si spostano, vi spostate? Si spostano, caricano le sacche sul golf car, e praticamente completano il percorso andando... Andiamo giù, dai, andiamo a vederli così da vicino, li facciamo anche vedere. E poi mi diceva anche a proposito delle sacche, Presidente, una curiosità che io non sapevo. Ci sono anche delle sacche con il motore elettrico, quindi per spostarle con grande facilità. No, vengono messe sul carrello, che è un carrello elettrico, e quindi viene trasportato facilmente a trattamento. Ovviamente ci ha portato qui, perché io lo sapevo che c'era, però non l'avevo mai visto. Bella anche questa iniziativa. È un tour un po' particolare. E certo, è un tour veramente un po' fuori dall'ordinario, però quello che voglio dire, non è che il golf sia qualcosa solo per una determinata società. Tutti possono approfittare di una bellezza del genere, perché possono anche semplicemente venire per dare un'occhiata. La nostra amica Anna ci scrive che è un posto, evidentemente è stata qui, che è un posto meraviglioso, una clubhouse elegante e accogliente, un sogno. Devo dire che io l'ho vista, l'abbiamo vista all'interno, ed è veramente lo stile british pazzesca. Ecco, ha ragione la nostra Anna, è veramente molto elegante, molto british, va bene, definiamola così, no, Presidente? Non solo all'interno, all'interno della clubhouse esiste una biblioteca, che è una delle più famose al mondo. Dicono che sia per importanza forse la prima che esista al mondo. Noi abbiamo solo 1200 volumi molto particolari, altre biblioteche hanno 30.000 volumi, quindi non è una di quelle con un numero elevatissimo di volumi riservati al gioco del golf. Però i nostri 1200 sono rarissimi. E sono addirittura, c'è il St. Andrews, che è la capitale del gioco del golf, dove vengono fissate tutte le regole del gioco del golf, che ci sono esperti loro, bibliografi, che vengono da noi a prendere e a fotocopiare alcune pagine dei nostri video. Una struttura veramente, complimenti, Presidente, complimenti. Non solo in Como, dove esistono delle cose meravigliose, esiste anche... Beh, oggi abbiamo, mi passo il termine, violato, nel senso che non eravamo mai stati anche questo tempio particolare. No, abbiamo fatto vedere che, insomma, è una cosa molto molto bella, elegante, anche di grande tranquillità, perché qui siamo proprio in una massima assoluta tranquillità. E queste sono le vetture, giusto, Presidente? Esatto, esatto. Se vuole, noi facciamo... Prego, dai, facciamo... così chiudiamo il nostro collegamento, facendo vedere proprio anche come un piccolo... Piccola escursione con il Club Car, giusto? Esatto. Perfetto, eccolo qua. Elettrico, assolutamente elettrico. E allora, vediamo un po'... Come metto dietro come... Eh, come vuoi, non lo so. Vedi tu, io mi siedo qua e perché non sono capace... Allora, perfetto, Presidente, grazie per... Prego, prego. Facciamo un giro, andiamo verso la buca numero uno. La buca numero uno, perfetto. Qui al Golf... Oh, Presidente, questa è bellissima, sta cosa... Non ci eravamo mai saliti, giusto, Marta? No, mai. Benissimo. Con... Come si chiama il veicolo? No, si chiama Golf Car. Golf Car, Golf Car. Eccolo qua, perfetto. Elettrico, assolutamente, quindi... Bellissimo, davvero. E andiamo, allora, verso la buca numero uno, qui, della Golf. Ma ci vedete, una bellissima novità, una bellissima e piacevole sorpresa. Spero che possiamo aver trasmesso anche ai nostri gentili telespettatori di Facebook che ci guardano. E questi sono alcuni dei giocatori. E questi qui sicuramente sono degli stranieri che sono venuti a giocare con l'oltre, qui da noi. Questa è la buca numero uno. Questa è la buca numero uno. Quindi noi abbiamo visto la fine e vediamo l'inizio. Esatto, vediamo l'inizio, esatto. Inizia qui, giusto? E questa è la buca numero uno? No, la buca numero uno è questa. Ah, quella lì, perfetto. Guarda che meraviglia di spianata qua. E' bellissimo, è veramente bellissimo. Quanto è esteso chilometricamente, Presidente? Dunque. Resti lì che vi riprendo, resti, resti, resti. No, ma è bello riprendere anche la buca. Vieni, Marco. È bello riprendere anche la buca, dunque. Il campo si estende su 45 ettari. Cavolo, 45 ettari è un... 45 ettari e praticamente in linea retta, quindi se uno misura le distanze di tutte le buche, sono circa 5.900 metri. Quasi 6 chilometri. Quasi 6 chilometri. Ecco, intanto vediamo che... Questa è la, praticamente, è la piazzola di pratica per l'ultimo colpo. Quello che va in buca. Allora, prima di partire fanno un po' di pratica. Un po' di allenamento, di riscaldamento. E la signora invece sta giocando, inizia a giocare. Guardate. Ecco qua, perfetto. Quindi abbiamo visto... Ah, molto bene. Molto bene. Anche il signore è presente. Ok, quindi, caro Ricchi, un caro saluto. Grazie a te, ci guardi da Venezia. Devo dirvi che oggi siamo veramente contenti. Presidente, grazie, grazie a Marta, che ci ha portato a scoprire questo mondo affascinante. Dove, tra l'altro, ecco, anche i nostri amici possono venire, perché, ripeto, è un posto dove non bisogna essere necessariamente soci. No, assolutamente. Però, chiaro che uno se viene qui... A di là del fatto che essere soci qui al circolo ormai è diventata una quota che può essere paragonabile alla quota di una palestra. E allora... Allora, io nel frattempo ne approfitto per farvi vedere ancora la bellezza della struttura che ci ospita in questo tour dell'Ario. Grazie al Presidente Roncoroni, a Marta, e vedete intanto i giocatori che... Ma, e tra l'altro, qui non possono venire a pranzo anche coloro che non sono in grado, ma non solo, possono anche venire a fare un soggiorno. Ma immagina che un soggiorno in queste camere, in queste casette, è una cosa splendida, veramente. Bello davvero, Presidente. Tenete presente, sì, che ormai da circa quattro anni siamo diventati anche Foresteria Lombarda. Abbiamo dodici camere. Dodici camere, vero mi diceva, esatto. Che possono essere... vengono vendute come se fosse un albergo. Perfetto. E allora vediamo i signori che si preparano, ma sempre rispettando anche un po', quindi non alzando la voce, ovviamente, perché è giusto, ovviamente, rispettare. E vedete che si stanno... La macchinina, la si vede come... La macchina, esatto, la golf car che segue la signora e che... Beh, insomma, Presidente, alla fine, e qui chiudiamo, e beh, giocare a golf vuol dire far bene anche, perché insomma, di chilometri ne fai, ti alleni, ti mantieni. Ma di là della macchinina che può essere usata, la maggior parte dei giocatori vanno a capire... Infatti. E quindi è sano. E vengo a chiedere in palestra. Dice, dice, dice Anna che al ristorante vostro si mangia anche molto bene. Sì. Quindi evidentemente, beh, Anna, grazie della tua testimonianza, e dice, il che non guasta. Esatto. È bellissimo e chiudi... Se vogliono delle informazioni, c'è una mail che posso... Beh, c'è il sito, naturalmente, ma se vogliono qualcosa di speciale, allora segreteria-menaggio.org. Brava, sei sempre perfetta. E chiudiamo facendo vedere le mazze. Mi spiega solo una cosa, un'ultima cosa, Presidente, e poi la lascio. Che differenza c'è? Allora, queste mazze sono i legni, sono i legni, e sono quelle... Sono, cos'è, in alluminio? Sono soprattutto in metallo. In metallo, ok. Metalli speciali, che sono quelle che lanciano il colpo molto più lontano. Mentre queste sono i ferri, e sono quelli più di precisione, quindi che servono per i secondi, per i secondi, i terzi colpi. E questo, no, che sono più di noi. Vabbè, qualcosa in più abbiamo capito. Il PAT, il PAT è quello che viene usato. Che hanno usato loro. Si chiama PAT, che si usa sulla piazzola. Perfetto. È davvero tutto, grazie Presidente Roncoroni. Grazie a voi. Meraviglia del nostro territorio. Non lo sapevo, ma l'abbiamo scoperto con piacere. Grazie, eh. Di nuovo. Di nuovo, se volete venire, con piacere. Ciao Marta. Ciao, non è l'ultima meraviglia, però, del lago di Colo, perché poi in questa zona viaggiamo. No, ne abbiamo tante, tante. Ne abbiamo tantissime. Buona prossima, se è bel tempo. Ti faccio vedere un'altra vista in questa zona, che è veramente impagabile. Bene. Grazie agli alpini. Mi fido. Grazie, Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.